parto in terza il 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. no. a tutti. a tutti. dopo, 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 che sono passato. a tutti. a tutti. a tutti. sono qua. c'è coda. dimmi quando... dimmi quando... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. no. no. a tutti. 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 provo. profilme. 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 a tutti. a tutti. profilme. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fai la blackboard a prendere il paramano in mezzo ai due tronchi. È bianco. Grazie a tutti. 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 a tutti. Vai, vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Cazzo. a tutti. 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 amore mi senti. a tutti. 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 ho paura. a tutti. 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 da lì. a tutti. 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 che succede. a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti.